GF VIP 7, al capolinea il flirt tra Oriana e Daniele Dal Moro, finisce qua e basta. Dopo giorni di batti becchi e accusi reciproche, il flirt fra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrerebbe essere giunto al capolinea. L'extronista di Uomini e Donne ha continuato fin dalla puntata di due settimane fa a ribadire di non essere pienamente convinto dall'atteggiamento dell'influencer venezuelana. Dal canto suo, la Vippona è stanca di dovergli sempre dimostrare qualcosa. Da qui la decisione di mettere un punto a questo tira e molla. Daniele è rimasto fermo sulle sue posizioni, provando a spiegare a Oriana Marzoli tutto ciò che non va. Successivamente Oriana Marzoli si è sfogata con Alberto De Pisis. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.